Il nome che questa volta sempre di random name generator è Jacob un altro esploratore speleologo urbano cioè è sempre quella la permutazione un altro 23enne coraggioso, atletico e intelligente e all'improvviso mi sa che c'è statisticamente un grosso picco di morti di questi 23enni speleologhi Ma no, perché sai in realtà il punto è che sono sparsi ovunque nel mondo tale per cui vengono persi nella media e nel caos globale non ti rendi conto perché alla fine i fantasmi e i fantasmi sono ovunque quindi tutti i morti non relazionati tra loro Qualcuno che se ne va in posti dove non va nessuno e poi non torna più forse, o forse torna con una storia un po' folle, vediamo e sì, essenzialmente una di queste notti salto da un condotto fognario all'altro da questi canali dove si riversano diciamo le esuberanze diciamo di acqua piovana quando ci sono queste buzze e cose del genere dunque spezzo questo ambiente che diventa più industriale dunque entro in qualche tipo di area sotterranea di una fabbrica e mi allontano parecchio dal punto di entrata tant'è che mi ricordo vagamente un percorso di scale bocca porti e cose del genere che ho percorso magari anche di muretti che ho saltato e cose del genere però sono comunque molto lontano mi sono addentrato ben profondo in questo posto sono di natura molto prudente e spero che non mi perderò però non si sa mai qui sotto terra devi far tesoro della tua natura prudente sì sì dice di andare all'uno all'MC ok descrivi il luogo in cui si trova l'altro giocatore e camminando stongo questi percorsi a un certo punto le pareti che hai intorno si fanno in da una serie irregolare di di cemento di varie strutture stratificazioni attraversato svariate epoche muovendoti in questi condotti ti ritrovi a camminare in quello che è un corridoio di mattoni ordinatamente impidati gli uni sugli altri e quando varchi varchi la porta l'ambiente è abbastanza grande ma non sconfinato e le pareti che illumini con la tua fonte di luce che mi dirai qual è sono anch'esse tutte quante regolarmente segnate da mattoni al centro di di questa di questa stanza sta una grossa macchina estremamente complessa che forse non riconosci da questa distanza nella luce nelle ombre che si muovono man mano che tu stesso ne muovi la fonte è comunque massiccia e corposa apposta al centro della struttura il le pareti quelle che hai quelle che hai intorno oltre a dare il come dire il passo con questo ritmico ripetersi di mattoni che perdono perdono colore di fronte alla alla tua luce è rotto qua e là da una serie di di segni scavati a violenza sui mattoni probabilmente ormai friabili dall'umidità ormai consumati dall'età da quelli che sono dei graffi segnati sulle sulle pareti vedi quattro linee parallele muoversi dall'alto verso al basso profonde all'interno dei mattoni e svariate di queste segnare la stanza in quelle che sono evidentemente segni di appunto graffi la cosa che è strana è che per seguire queste linee ti ritrovi ad alzare la luce ragionando che effettivamente sono poste ad un'altezza che li rende sospetti vai al numero 2 e posso rispondere alle tue domande prima e dopo che non tu faccia il 2 Jacob ha un piccolo deja vu come se in questa situazione ci fosse già stato per uno strano motivo non è vero non è mai stato qui però è una sensazione la luce che ho è una di quelle sei attaccate alle fasce super alla testa tipo una bandana con sopra la luce e e non registro queste cose le faccio per puro piacere ed emozione personale di andare in un posto dove non è stato più nessun altro da qualche tempo non ci sono più i vecchi tombaroli avidi no è proprio tipo trail seeking questo allora io traccio questi solchi questi graffi sul muro che dici che è un'altezza losca tipo sospetta ma cos'è ad altezza di mano essere umana ti rendi conto che avvicinandoti se tu alzi l'intero braccio i graffi iniziano mezzo metro sopra la punta dalle tue dita e scendono fino a poco sotto dove tu hai la mano quindi ti rendi conto che sono effettivamente alti rispetto a quello che ti aspetti e sono anche inaspettatamente fondi ho capito sì dunque sono sono vanno molto dentro al muro ma il muro è fatto anche questo di questi mattoni che sono impilati dovunque sì 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 il muro è di mattoni e quando e se appunto avvicini la mano ai mattoni per come dire per controllare i graffi ti rendi conto che il mattone si sta si sta spolverando si sta rovinando ed è bagnato intriso di umidità che nel momento in cui però tocchi il muro vedi che ti lascia un un rosso acceso sui polpastrelli delle dita oddio ovviamente annuso questa cosa magari la porto anche sulla punta della lingua per capire ma cos'è è il colore del mattone o è forse del sangue e infatti qui mi dice che cosa mi fa venire in mente mi dice di scegliere di queste cose diciamo paurose tra l'altro visto che stiamo facendo il new game plus mi dice appunto di scegliere qualcosa che non ho scelto prima dunque non sceglierò follia qui decisamente penso alla crudeltà oppure al dolore visto che ci sono dei graffi penso cioè ho paura ho paura del dolore che ci sia qualcosa qui che possa farmi del male effettivamente perché sono qui in mezzo alla pampa sotterranea urbana termine tecnico e dunque un pochettino impressionato sono ma sa di sangue questa roba cioè no in realtà la consistenza è troppo liquida e ha un odore un odore di marcio un odore di morte che non riesci ad identificare non è niente che ti metta assolutamente a tuo agio ma non è sangue cosa sia che trasuda dal muro però effettivamente resta resta dubbio allora ho scelto dolore sputacchia questa cosa pensa che sia mattone marcio chissà di cosa sono fatti questi domani comunque tuttora non mi non mi si è risposto a cosa ha fatto questi grafici soprattutto a quell'altezza mi dice dolore di all'MC se e quando Giacob pensa di avere bambini Giacob è un 23enne è qui a fare il thrill seeking non ci pensa neanche remotamente di avere figli probabilmente prima o poi insomma come è normale si dà una calmata cioè quella è l'idea però non ce l'ha nella testa questa cosa è un seme che deve ancora maturare col tempo e germoglierà forse chissà quando se mai uscirà da qui o anche qui Giacob fatti dire una cosa no vabbè comunque 30% di possibilità andiamo avanti comunque e poi dice di pescare e è appunto che perché questa è la prima volta comunque vale come un il risultato vale come un 3-2-20 comunque vediamo dobbiamo rimischiare le carte tra l'altro le ho già riprese tutte e rimescolate però giusto nel dubbio lo rifacciamo ok devi toglierne una giusto ne prendo una e la metto da me e poi adesso tu puoi pescare ok vediamo pesco e flippo 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 ed è un 8 ok non male non bene però comunque lo considera come un un successo essenzialmente dunque mi dice in realtà devo dirti se qui non ho visto un fantasma ti dice a te di andare al 3 se qui c'è un fantasma di andare al 13 se non hai visto un fantasma allora andiamo al 3 ok cosa fai? sei libero di muoverti e di indagare e di interagire con le cose dimmi come come ti muovi allora ho capito bene c'è il muro che è di questi mattoni e ci sono però anche dei mattoni impilati ho capito bene no 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 sono semplicemente i mattoni del muro che qua e là è stato probabilmente riaggiustato risistemato quindi sono anche sfalsati in alcuni punti ma è semplicemente il muro al centro c'è questa grossa macchina meccanica di qualche tipo e dall'altra parte della porta da cui sei entrato vedi una porta metallica adesso che ti sei mosso un po' all'interno della stanza ok la porta metallica dalla quale sono entrato è chiusa aperta quella da cui sei entrato è mancante sostanzialmente ok bene perfetto vedi i cardini ma probabilmente caduta è stata tolta tempo or sono mi rilasso un pochino perché c'ho comunque una nave di fughe se qui dentro ci fosse che ne so un orso grande come una casa però comunque come hai detto tu intensifico la lampada perché sappiamo che è saggio farlo e sono in dubbio se seguire cioè io con la lampada illumino i graffi vanno vanno fino nel buio a perdersi o finiscono in un certo punto perché sono in dubbio se andare verso la macchina o continuare nel momento in cui alzi la luce verso l'alto vedi che piccola e opaca probabilmente dallo sporco o forse dal fumo dagli anni sembra esserci una piccola finestra alta una ventina di centimetri ad un'altezza che puoi stimare essere 4-5 metri d'altezza posizionata al al centro della parete e così anche sulla parete sulla parete di fronte quelle piccoli lucernari che si mettevano negli interrati giusto per ricambiare l'aria o per far passare un po' di luce i graffi si fermano comunque a un metro abbondante da quello che è il lato basso della feritoia sembra che questa bestia quello che sia stato poi abbia cercato di scappare magari magari qualche cosa si è persa qui in questo post poi ha cercato di uscire magari c'è anche riuscita visto che i graffi finiscono o forse no visto che non vanno fino su all'uscita ci vedo fuori no fa conto che quello che ti sembra essere un vetro è bianco palescente come ormai se fosse ceramica probabilmente o smerigliato e ha perso trasparenza nel tempo o semplicemente totalmente sporco o occluso dall'altra parte non ti dà nessuna nessuna idea di trasparenza però è simmetrico essenzialmente c'è anche dall'altro lato giusto sì lo vedi da dove sei ti giri e puntando la luce sopra la la grossa macchina vedi anche nella parete opposta la stessa la stessa feritoia e dunque è come se la macchina fosse al centro di queste due cose vado verso il macchinarione e lo guardo un po' con occhi curiosi a volte si trovano dei macchinari davvero arrugginitti però a volte in strano buono stato di preservazione per via di di condizioni di umidità che ed arie che qui sotto possono cambiare molto da da una stanza all'altra ok e quando ti avvicini alla alla macchina vedi che effettivamente è un enorme telaio per filare quindi non so se sei presente ma immaginati questa struttura metallica molto pesante e stracolma di piccoli componenti di cose che assomigliano a coltelli lame tutto quel che serve per guidare l'estrema complessità di di movimenti che ti permettono di di tessere di filare il il tessuto ovviamente la macchina è estremamente vecchia anche se si presenta in in buono stato non dà segni di ruggite nonostante l'umidità che che percepisci intorno a te che ti rende le le dita appiccicose che ti ti rende sgradevole l'aria del posto e sembra ancora appunto di un nero ferro ben oleato e è effettivamente molto aggressiva molto violente i profili i profili affilati e pronta quasi a scattare a ricominciare il suo tichettio ritmico di lavoro per fare ciò di cui è stata fatta questa cosa mi fa impressione a Giacob così proprio gratuitamente gli fa impressione illuminando questa cosa a guzza ma ho capito è una tessitrice questa macchina che cosa c'è in giro del prodotto di questa macchina vedo un tappetone o un tessile dei rimasugli di materia prima che usava per tessere segui con la lampada la struttura e vedi effettivamente che da un certo punto in poi compare comincia a costituirsi quello che sembra un tessuto bianco quasi del immaginati del velo da sposa come consistenza come leggerezza e tipo di tessuto forse una sete estremamente sottile quasi trasparente un cotone molto regolare molto liscio un qualcosa del genere che da metà della macchina poi scende cadendo alle spalle della macchina dove probabilmente un rullo un qualcosa avrebbe dovuto raccoglierlo e mancando questa cosa scende verso il basso e seguendo con la lampada questo profilo questa cosa vedi un un teschio e una come dire e la spalle di un quello che probabilmente è uno scheletro appoggiato sul retro della macchina cioè è il tessitore o la tessitrice c'è chi ha operato la macchina possibilmente mi avvicino con fare abbastanza reverente e anche un pochettino intimorito però insomma non voglio ammetterlo anche se non c'è nessuno a guardarmi e lo scheletro è comunque dietro la macchina giusto? è appoggiato immaginati all'angolo posteriore della macchina dove il tessuto scende dietro la macchina lì c'è il come dire c'è lo scheletro dovresti da dove sei io mi immagino che ti sei avvicinato praticamente dalla posizione di di comando di tessitura scendere da lì e girare attorno alla macchina per andare sul retro cioè quello che vuole fare Jacob si inginocchia lì e comunque vuole toccare questo tessuto vuole toccarlo metterci mano lui cerca lui va in questi posti perché cerca le emozioni e qualcosa ha trovato e dunque prima di tutto insomma quasi un po' se l'approccia in maniera misurata metrata questa cosa nel senso che prima guarda il tessuto e senza pensare troppo a questo scheletro che è morto probabilmente facendo questo tessuto e dunque insomma tocca il tessuto dicendo una frase al silenzio di questo posto rimbombante che è qualcosa del tipo però che bel che bel tessuto che ha prodotto questa questa brutta macchina e guarda la macchina che è lì vicino immagino e quando ti avvicini al tessuto vedi che come dire lo scheletro è ancora fondamentalmente intero e vestito con quello che è un vestito femminile molto come dire molto semplice una due due spalline uno scollo quadrato scende con semplicemente una cintura di stoffa in una gonna larga senza senza niente di importante o che colga la vista il tessuto ha perso ogni tipo di colore e sembra anche lì appoggiato è pronto a cadere in polvere a differenza invece di quello che è stato tessuto della macchina che sembra effettivamente pulito perfetto ed appena fatto ma questa macchina va a mano cioè nel senso bisogna farla andare a mano è una macchina manuale evidentemente per quanto grande sia è ancora una macchina manuale c'è alla fine una tagliera o qualche cosa del genere per tagliare il tessuto prodotto il tessuto cade per terra vedi che c'erano la macchina proseguiva probabilmente in qualche modo per accogliere il tessuto ma quella parte lì sembra essere stata danneggiata o forse smontata ed è perduta il tessuto cade per terra senza senza logica tutti gli effetti lì dove si è rotta la parte ci sono sopra dei graffi sullo scheletro ci sono dei graffi sul tessuto dove il tessuto è intatto però ci sono dei graffi sullo scheletro dunque adesso che guardi lo scheletro vedi che è pressoché intero tranne le ossa delle mani che una mano pigramente è ancora appoggiata probabilmente a tenere su il resto del corpo e vedi che le dita ti sembrano effettivamente troppo corte non hai idea del numero esatto di ossa che dovrebbero comporre la mano ma vedi che mancano mancano delle falangi e quelle che ci sono sono consumate l'osso grattato come un gessetto che abbia segnato una lavagna per troppo tempo ma le ha perse nella macchina cioè morta facendo qualcosa alla macchina questa cioè guardo nella macchina un attimino con le luci per vedere se vedo qualcosa di bianco dentro a questo ammasso di macchinario probabilmente di un colore diverso ok quando guardi dentro la macchina vedi che in nella stanza a pochi passi da te c'è una figura lattescente alta all'incirca un metro e novanta molto esile allungata quasi il volto è anche quello estremamente deformato gli occhi sono tondi proprio geometricamente tondi come sfere in questa deformazione è quasi a ricordare ti viene in mente un dipinto che hai visto l'urlo di la differenza è che qui il volto invece è effettivamente non astratto è reale ci sono gli zigomi c'è il mento ed è vagamente una struttura femminile quella del corpo che è davanti se non fosse così deformata è anche leggermente ondeggiante come appunto quelle pennellate che tu tendi a ricordare questa figura nel silenzio ti guarda fissandoti e vedi che dalla punta delle mani sta gocciolando qualcosa che mette un periodico sul pavimento di questa stanza allora Giacob credo che sia effettivamente spaventato ha un fortissimo brivido in questo momento però in una qualche modo in una qualche maniera come thrillseeker forse lui si sperava una cosa del genere nel senso si sperava di trovare qualcosa di diverso qualcosa di forse di sovranaturale chi lo sa forse è proprio per questo che cerca questi luoghi remoti e dimenticati ci va da solo solo con una luce da 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 testa insomma e quello che fa è che lui si alza si è inginocchiato per vedere questo telo dallo scheletro con il telo in mano si alza in maniera lenta come per non imbizzarire un fenomeno che non si sarebbe mai aspettato di vedere in vita sua e guarda cioè lui stava cercando effettivamente se se lo scheletro avesse perso le dita dentro la macchina e sembra che il fantasma gli mancano delle dita che stia sanguinando questa 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 apparenza che comunque è paurosa sia chiaro lui è irrigidito però cerca di non muoversi un po' come appunto per non spaventare una una bestia strana e si alza con questo con questo telo in mano che immagino che sia comunque molto soffice forse si alza anche un po' nell'aria nel vento dal movimento e guarda questa figura ma è tipo anche la figura è tipo setosa e cose del genere come un po' questa questa cosa il vestito che porta ti sembra fatto della stessa della stessa seta della stessa cotone di quel tessuto inconsistente e all'apparenza pregiato che adesso stai toccando tra i polpastrelli ed è un vestito senza finiture particolari sembra più che altro l'idea di un vestito quando provi a focalizzare un dettaglio per poterlo fissare descrivere ti rendi conto di non riuscirlo a fare continua a sfuggirti agli occhi pesca una carta ok pesco una carta vediamo che succede allora sono a 8 dovrei poterne pescare una senza che il massimo della pescata è l'11 quindi arrivi l'apocalisse per adesso è un altro 8 un 16 quindi sei messo bene vai al numero 4 il fantasma ti resta entra come dire entra compare nella stanza e comincia a muoversi lentamente verso la verso la macchina tu sei nella parte posteriore e lui sembra lentamente muoversi fluttuando a mezzo metro da terza verso la parte anteriore della macchina dice cosa speri assolutamente che non faccia penso che questa volta scelgo che ho paura che per quanto mi interessi questa cosa sono assolutamente affascinato da questa apparizione ho paura che mi tocchi anche perché sai tipo gli manca il discorso dei graffi il discorso che mi ha fatto venire l'idea di violenza il discorso che gli manca comunque parte della mano paura che mi tocchi devo pescare di nuovo tu devi andare al 4 e rispondi alle domande del giocatore se il 4 ti dice di pescare devi pescare di nuovo sì perché la prima l'hai pescata nella mia pagina e adesso tu devi pescare di nuovo hai un 16 quindi devi ragionare se pescare ancora o risettare la mano che se resetto la mano comunque c'è cos'è il minimo il minimo è un 6 sennò cose brutte succedono giusto esatto tu dovresti diciamo resetti la mano sperando di pescare almeno un 6 mentre adesso dovrei stare comunque dentro il 20 dovrei pescare tipo un 4 sotto giusto sì sai che cosa provo a resettare cioè dunque le metto via qua da parte vediamo che succede e se resetto poi ne scelgo ne tiro comunque fuori una giusto sì esatto riparti da senza nessuna carta in mano solo quella che peschi e mi dici speriamo che sia alto ah 2 crudele destino 2 brutte cose succedono mi sa dimmi cosa dice il tuo libretto sballato e dice fa proprio la cosa che speravi non facesse che era appunto toccarmi o cercare di toccarmi e ti dice di andare al 15 all'MC e di scegliere opzione B questa era questa era d'azzardo e amane così il fantasma reagisce alla presenza dell'altro giocatore ok il lei si stava muovendo verso verso la macchina quando dimmi tu cos'è che le fa rendere conto della tua presenza cos'è qual è l'istante in cui lei ti fissa con lo sguardo cambia stacca la sguardo dalla macchina e in movimento meccanico fissa gli occhi verso di te e viene a prenderti con la sua mano osciuta sulla tua spalla cosa hai fatto che hai attirato il telo c'ho in mano il telo che forse lei voleva lavorare chi lo sa non lo so comunque ti spiego nel momento in cui lei si siede vedi che con lo sguardo segue un'increspatura del del telo che è causata dal fatto che tu lo stai alzando e ha spostato un po' tutto il telo fino a spostarlo anche all'interno della macchina lei segue questa modifica della sua realtà abbastanza ripetitiva e con lo sguardo ti vede si alza e allungando il braccio in maniera quasi non fisica lo porta praticamente a un metro e mezzo forse due metri di lunghezza ti arriva sulla spalla e quando ti tocca senti un freddo gelido addosso a te e man mano che la mano si avvicina ti rendi conto che la mano è praticamente consumata fino alla seconda falange vedi il vedi l'osso esposto e da lì gocciola effettivamente questo questo liquido è abbastanza denso arrivato qui ti domando tu cosa fai ti posso fare una domanda di ritorno devo risponderti proprio brutalmente puoi pure dirmi sì possiamo quel liquido puzza della roba che c'era dentro ai graffi che ho assaggiato ricorda quel nauseante odore di fettore di morte che avevi sentito intorno alla stanza potrebbe essere forse un'impressione un ritorno dell'odore delle pareti quando lei ti si avvicina però fai questa associazione nella tua mente senza sapere se sia verità il che mi fa pensare a questa figura che si è consumata al braccio cercato di graffiare il muro in qualche modo però mi distinto mi sposto qualche passo verso la macchina ma con il telo ancora in mano e cerco di rimetterlo lì dove era ho come la sensazione che volesse sedersi alla macchina per lavorare e io gli ho tolto il telo e dunque lo cerco di rimettere dove era come per dire che rispetto questo posto rispetto quello che stava facendo non volevo disturbarla ovviamente non dico niente perché gli mancano le parole nel senso si congelano nella gola probabilmente il gelo va anche nella gola della spalla però essenzialmente faccio due passi là rimetto il telo al suo posto e vedo che fa vedo se magari si placca perché cerco di essere rispettoso la mano sulla tua spalla continua a rimanere lì continua a sentire questo freddo immaginati come se proprio il il ghiaccio fosse appoggiato sul sulle tue ossa senza neanche passare attraverso la tua carne il tocco è determinato ma non ma non doloroso quando tu vai per muoverti ti lascia muoverti non 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 ti crea o forse non può crearti violenza fisica lei si alza dalla dalla postazione seduta che stava prendendo e comincia a camminare per arrivarti vicino man mano che cammina vedi che l'articolazione della spalla in qualche modo si sloga per permettere al braccio di continuare a rimanere tra lei e te fino a che lei ti arriva a circa mezzo metro di distanza adesso puoi scegliere se andare al 6 10 14 o 16 andiamo al 10 così senza sapere niente allora mi dice di chiederti che cosa può fare a me il fantasma che cosa può farmi il fantasma ok ti rendi conto che man mano che lei ti fissa con questi occhi praticamente sferici sembrano quasi gli scherzi di carnevale quelli con le molle quando escono e rimbalzano attraverso questi occhi ti rendi conto che cominci a sentire una uno stato d'animo e anche un un qualche tipo di bisogno di necessità che lei sta in qualche modo impostando addosso a te ti sta caricando di uno stato di uno stato emotivo di uno stato di sudditanza di qualche tipo ok e poi mi dice di dice di pescare e poi eventualmente a dipendenza di quello che succede posso scegliere o non scegliere le conseguenze cioè me le può dettare il gioco vediamo ok e a questo punto pesco sono due spero che faccio comunque il minimo flip e otto ok sei nella via di mezzo si sono a un otto e dunque devo scegliere due di queste cose seguenti perché sono tra il 6 e il 12 le tue mani non riescono a smettere di tremare ti copri la faccia stai gemendo le ginocchia ti si fanno molli sei gelato dove ti trovi sta lentamente arretrando allora io credo che effettivamente le mie mani non riescono a smettere di tremare questo è sicuro poi sono indeciso tra che sto lentamente arretrando perché cerca di arrivare da me oppure che sono gelato dove mi trovo ma tu mi hai detto che cerca di fare una qualche tipo di compulsione che mi sento in qualche modo intonarmi con le emozioni che magari vedo nei suoi occhi non lo so queste sfere dunque credo sai che cosa sto gelato dove sono ok mi faccio prendere da sta cosa e poi mi dice di dirti cos'è appunto l'ho fatto e mi dice di MC di proseguire dal punto in cui si trova ok la figura ti ti si avvicina e tenendo una mano su di te adesso comincia a portarti a portarti verso di lei e lei stessa tende a indireggiare praticamente ti riconduce sulla strada che lei che lei ha fatto per arrivare fin lì riportandoti verso la macchina lo fa più che non trascinandoti con la mano che ti ha messo addosso lo fa in qualche modo imponendoti un qualche tipo di urgenza che nei primi istanti ti trovi quasi quasi obbligato a dover seguire tale che è la tua la tua paralisi appunto che ti si è che ti si è indotta e lei si si muove lentamente ed evidentemente la sua intenzione è quella di portarti verso il verso il telaio verso l'imbocco del telaio eh sì posso posso reagire con Jacob nel senso si riprende questo congelamento continuano a tremargli le mani come se sentisse questo freddo immenso che comunque gli viene da da questa figura che più che altro la cosa più paulosa in questo momento non è il fatto che c'è un fantasma davanti sono quegli occhi come due sfere gigantiche come due buchi neri in un qualche modo guardando questi buchi neri cercano di non guardarli perché sono come l'orizzonte degli eventi di quelli cosmici di buchi neri dunque come se vedresti cioè come se il tuo sguardo andasse a perdersi in realtà da lì poi non può più fuggire nulla però comunque ci sia qualche cosa lì in fondo e dunque si fa portare si fa portare e continua tremandogli le mani immagino che incomincia anche ad alitare proprio tipo c'è questo appannamento dell'aria quando lui alita perché quando lui respira perché è vicino a questa questa manifestazione che da quanto capitano la stanza ti sembra effettivamente di colpo di colpo ti sembra adesso che ti rendi conto molto più fredda di come l'hai percepita quando sei entrato qui e il fiato effettivamente comincia a fare ad essere visibile a fare le nuvole man mano che ti esce ti esce dalla bocca e dunque la seguo perché lei stava andando lì prima che l'ho disturbata e dunque la seguo lì sperando che magari si metta si metta che ne so i controlli della macchina che mi lasci stare ok lei ti conduce effettivamente fino a lì dopodiché al posto di sederti lascia al posto e ti invita se questo è il termine giusto a sederti senti non con le parole ma con un'emozione di urgenza o di necessità che ti viene piantato sulla sulla testa il il comando la parola l'ordine tessi dov'è la materia prima cioè è questa è questa la domanda un po' sciocca che faccio sedendomi già con cosa tesso e ha una paura che insomma che esce dal suo profondo che lui si guarda le mani guarda il braccio mezzo sconsumato di questa figura guarda lo scheletro e spera di non finire così e spera che non è lui la materia prima però a seconda lo spirito perché non sa cos'altro fare cioè si è completamente dimenticato dei graffi sul muro si è dimenticato in realtà di dov'è e incomincia ad attivare questa macchina la domanda è Giacomo sa tessere con un telaio meccanico no ovviamente no nel senso magari cerca di imitare i movimenti che pensa che cioè non so cosa fa lui di lavoro ma non penso che cioè è giovane dunque non che sia tipo un qualche tipo di studente di ingegneria meccanica qualche cosa del genere non credo i telai sono tra le macchine più complicate che la mente umana mi ha partorito in certi secoli di questa di questa esistenza quindi è praticamente un inferno di leveraggi e di cose esatto ok provi a metterci mano quindi cioè alza qualcosa abbassa cerca di ok dove ci metto dentro tipo dov'è la materia prima cioè cosa cosa sto facendo però lo fa guardando questa creatura o cercando di non guardarla ok concentratosi come un pianista su 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 sulle sue mani mentre suona il risultato è molto facile tu metti mano ad un paio ad un paio di leve o di comandi fa conto che ci sono anche una serie di pedali di altre robe i comandi che devi gestire con i piedi e in un attimo senti che il come direi la complessa macchina che hai davanti risponde risponde cicolando risponde con con sofferenza praticamente a a quello che tu stai facendo vedi i leveraggi questa orloggeria complicatissima che compone il telaio tentennare inclinarsi di fronte ai tuoi gesti la figura che hai di fianco non sembra gradire questa questa tua goffaggine ai comandi ti prende la mano che avevi che avevi sulla spalla comincia a fare pressione comincia a spingerti verso verso il telaio dove appunto tutti questi leveraggi a pettine si aprono e si chiudono nel silenzio totale che fino adesso ho mantenuto vedi che comincia a premerti dalla nuca in avanti verso il verso il telaio ecco è abbastanza paurosa e avevo proprio paura che succedesse questo credo che vai al numero 40 si si fa scappare effettivamente un burlo allora dice 40 e poi devo pescare in realtà devo pescare e vediamo hai un 8 in tavola si si non resetto niente mi sa che è buona questa da pescare speriamo flip 4 dunque vado 12 giusto giusto eh eh si però ho bisogno di un 13 per fare un successo il 13 in più dunque sono comunque sotto lì al 12 allora 6 a 12 mi dice non puoi sfuggire all'attacco del fantasma ma devo dirti che cosa faccio per cercare di sopravvivere a questo e poi dice che l'MC deve proseguire dal punto in cui si trova allora considera questo Jacob in questo momento si sente un pochettino come uno studente cazziato da un insegnante che tipo lo sta punendo fisicamente non so non so bene da dove esce questa cosa magari viene trasmessa dal fantasma magari non lo so ha una qualche tipo di regressione per via della paura in qualsiasi caso cioè lui cerca cioè qui dice cioè io devo per forza fare una lotta o una colluttazione perché cioè in realtà lui semplicemente non sto fuggendo mi sta chiedendo il gioco di capire che cosa faccio per sopravvivere cerco di intimare al fantasma guardando i suoi occhioni buchi neri di insegnarmi di guidarmi di farmi vedere che cosa devo fare io non so cerco glielo urla addosso ma non sai tipo con aggressione con disperazione così magari passa questa cosa chi lo sa perché l'urgenza la sente di lavorare questa macchina e se la sente addosso tant'è che non si alza gli urla e dice insegnami come fare guida le mie mani vai al 42 ok ok dunque subito li vicino al 42 giusto tu mi stai dicendo di andare al 42 ok perfetto allora mi dice sei sfuggito all'attacco del fantasma dunque non mi mette la testa nella macchina immediatamente ma e poi dice di pescare ok vedi che come dire a questa tua cosa il fantasma rallenta la pressione che hai addosso per un attimo tutto si ferma la macchina si ferma il fantasma si ferma tu sei fermo pesca e vediamo come va sei a un 12 sì continuo a pescare perché secondo me sono proprio in zona se adesso non mi va cioè in realtà dovrebbe andarmi bene adesso una figura cosa succede cos'è un 10 giusto è un 11 una figura è un 11 più il tuo 12 6 questo è proprio fortuna però dimmi cosa succede sballato ah davvero mi dice te lo dice lui è solo perché il fantasma sta giocando con te ok che insegnante di 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 tessere crudele comunque ti dici di andare al 29 a te ok sta giocando con me il fantasma dice e perfetto nel momento in cui si ferma tu ti fermi il telaio si ferma tutto si rilassa in un attimo e di colpo senti il tocco gelido che non è più sulla tua nucca ma va sul tuo sul tuo polso che scivola in avanti di qualche centimetro e il telaio si muove di scatto e due delle tue prime falangi l'indice il medio sprung vengono stroncate dal telaio e sgrondano il sangue il telaio ricomincia a muoversi questa volta con ritmo perfetto e sincronizzato da orologio e la spola comincia a correre la spola è la navetta che corre avanti e indietro per appunto muoversi tra trama e ordito come un proiettile e il fantasma continua a tentare di spingerti la mano dentro schizzo di sangue urlo orrificato di dolore più che altro sai di offesa tipo ma ok va bene domanda ma dall'altro lato sta uscendo del tessuto cosa sta producendo questa macchina con vedi che il come direi il il tessuto via via viene fatto probabilmente cioè il filo di partenza il come dire il rocchetto che dovrebbe fare questo tu non lo vedi però vedi che a un certo punto il nel casino di lame e di pettini che creano questa cosa del tessuto viene fatto e lentamente scorre e adesso vedi che comincia a comparire delle macchie rosse nel nel nuovo tessuto che viene fatto sparse qua e là in base a dove poi il filo è andato a finire dando un un colorito rosa disuniforme a quello che sta venendo tessuto in questo stesso istante ok però comunque sta venendo tessuto cioè sta venendo tessuto qualcosa no non sono d'accordo Jacop non vuole essere utilizzato come materia prima a questo punto al diavolo i fantasmi vedi che è lei adesso che sta muovendo la macchina e e la sta effettivamente facendo facendo andare lei è ancora in piedi e e ti sta e ti ha spinto sostanzialmente la mano dentro perché evidentemente innervosita dalla dalla tua condotta beh sta tessendo lei io sono la materia prima non sono d'accordo cerco di ritrarre la mano e cioè l'ho capito non ho più le dita fa conto che ti sei perso praticamente lo spessore di un'unghia su due dita è come lei capito lei è anche molto di più in realtà come lei e no non sono d'accordo con questa cosa e dunque nel senso ritrarre non dovrebbe non sono bloccato dentro la macchina ma c'è questo spirito che comunque fa una certa forza su di me ok vai al 40 tu ok cioè torno al 40 essenzialmente perché siamo visto che abbiamo fatto il giro chiuso io al 29 e tu torni al 40 sì sì a questo punto beh sono solo ah no aspetta no questo fantasma ha già attaccato in precedenza l'altro giocatore sì allora lo uccide oddio vado io al 35 vai vai cioè io cercavo di scappare ma non credo che me lo permette il gioco a questo punto esatto no non te lo permette perché il giro il giro a vuoto la pescata brutta che hai fatto ti rimanda indietro il fatto di tornare indietro manda me fuori dal loop dicendo che se la seconda volta che passo di lì sei morto capito ma ci sta benissimo un fantasma sta uccidendo l'altro giocatore se non lo hai già fatto decidi in che modo il fantasma lo ucciderà con pericoli ambientali ovviamente descrivi il momento dell'attacco beh tu probabilmente dimmi come fai per provare a a lottare sappi che un passo alla volta verrai verrai tessuto dentro dentro questa macchina credo che da per terra su questo terreno sabbioso bagnaticcio cerchi di prendere magari sai una di quelle mattonelle libere no magari con il tempo sono finite lì dal muro sono cadute dal soffitto magari chi lo sa cerca di prendere una mattonella che è la prima cosa che gli capita a mano e cerca di sai tipo colpire il fantasma per farsi e anche la macchina in realtà con l'altra mano quella che non è dentro mentre quella l'altra zampilla del sangue cerca di levarla di lì però immagino che sai cerca di colpire il fantasma ma non so se è corporeo cioè no ecco spiegato l'arcano a tutti gli effetti infatti come dire la ti rendi conto nel momento in cui provi a a colpirlo che in realtà non è fisico e quando realizzi questo ti rendi conto ti rendi conto che non è lui che ti sta spingendo dentro il telaio ma sei tu che ti stai buttando dentro che stai via via infilando la tua mano il tuo braccio il gomito e il resto all'interno e che forse il fantasma non è mai stato fuori forse il fantasma è nella tua testa là fuori non c'è niente c'è solamente il telaio capito come un pianista folle suono questa melodia e dunque si accresce il tessuto rosa e io mi diminuisco e alla fine insomma cadono un paio di scarpe all'entrata e all'uscita del telaio c'è un altro bel telo rosa fine ok è una macchina infernale questa comunque come sempre abbiamo le domande ti sei fatto paura hai lasciato domande inquietanti senza risposta non lo so sinceramente però grazie per aver giocato è veramente una macchinetta di morte questo gioco hai mai fatto paura comunque va bene hai capito questa volta mi sono detto no no adesso cerco di fare il pacifista e anche un po' l'esoterico no cioè sai il rispettoso ma a mio giudizio in realtà era andata bene se non fosse che hai pescato veramente male perché lei si sarebbe effettivamente chietata con lo scopo di farti lavorare lì di farti vivere in qualche modo la sua esperienza e però poi tu vai a pescare malissimo ma va benissimo perché effettivamente è un tiro che pensavo ah questo è garantito mi va bene però non posso andare a pescare una figura infatti io avevo fatto i conti e ho detto beh insomma dai fino a 1.8 riesci a tenere però ci sta ed è il gioco così effettivamente è come dire è stato come dire puntuale ed emozionante anche appunto la morte improvvisa così e senza ragionamento nel momento in cui dici beh dai si ha capito come far girare le cose adesso fine ma no è fantastico il punto dove ah tipo delirio mistico c'è un'esperienza trascendentale mi cambio la vita perché so che c'è i fantasmi al di là trinciato dentro un telaio vieni mangiato da quella cosa che hai appena scoperto dunque appunto da delirio mistico a delirio di dolori e no la cosa allora mi ha interessato a parte che era procedurale però il gioco mi ha chiesto se il personaggio volesse avere figli e mi è sembrato interessante il discorso che ha incontrato una cosa che comunque produce qualche cos'altro l'ho trovato un parallelismo anche se lontano con quello del filiare del proliferarsi o del creare qualcosa e l'ho trovato anche divertente perché quello che ho avuto che mi ha fatto paura che mi ha fatto pensare a questi graffi era la violenza e di violenza ce n'è effettivamente stata parecchia cioè è una scena orribile e bellissima questa della persona che viene mangiata da un telaio però vabbè ti faccio notare che per scappare dal gioco sostanzialmente io dovrei arrivare a pescare cioè io devo avere in tavola nella mia schiera di carte quattro carte cioè almeno tutti e quattro i semi ok quindi come minimo io devo arrivare a quattro carte oppure il gioco finisce per te bene quando io arrivo a sette in entrambe queste partite io non ho mai pescato infatti avrei dovuto meccanicamente sopravvivere finché tu avevi sette carte per uscirne allora a sette esce automaticamente se hai fortuna che le prime quattro sono tutte di semi diversi esci e il punto è che per arrivare a farmi pescare bisogna imbroccarla giusta e sopravvivere sopravvivere bene ai fantasmi assassini e si chiama il gioco cioè un nome è una garanzia è così assolutamente ed effettivamente comunque penso che faccia come dire faccia onore faccia fede a quella che è la premessa del gioco cioè è una situazione irrazionale disperata non hai strumenti per venirne fuori no e se succede è solo per fortuna coincidenza e sì una serie di fattori che non esistamente dipendono da te in questo caso ad esempio cioè lato MC l'approccio era giusto e la pescata ti va contro e muori fine nessuna seconda chance nessun ripensamento ci sta no ma è giusto così poi sono anche giocate rapidi tant'è che ne abbiamo fatto i due adesso noi dunque siamo arrivati all'ora dei fantasmi è mezzanotte sì siamo arrivati mezzanotte all'ora dei fantasmi ecco giusto per concludere boh l'abbiamo giocato bene male non ne ho idea di come in realtà ci si aspetti che questo gioco venga giocato perché effettivamente boh non lo so come come magari venga facilitato da altri non so quanto sia a libera interpretazione di chi lo di chi lo legge di chi lo propone però mi sento di dire che secondo me lo spirito del gioco l'abbiamo l'abbiamo esplorato effettivamente nella sua fatalità nella sua come dire claustrofobia di di carenza di scelte di opzioni sì mi è piaciuto anche il tema vedo quando abbiamo giocato la seconda ho visto il potenziale di effettivamente avere un sacco di permutazioni di discorsi trovi strani macchinari trovi strani posti dimenticati sottoterra industriali cioè puoi avere effettivamente mille sbocchi da questa cosa dunque è rigiocabile sì sì che poi oltretutto come dire giocando le proprio due di fila abbiamo fatto quello che non si dovrebbe fare nel senso che comunque rischi di stare appunto in scia della partita precedente ma se ci metti un po' di tempo tra una partita e l'altra anche solo per risettare un po' le idee e la fiction è sicuramente rigiocabile nonostante magari poi rimbalzi o reincroci comunque gli stessi numeri ma lo fai magari in una sequenza in un contesto diverso sufficienti da cambiarti l'esperienza comunque adesso questo è stato due giocatori ma lo vedo possibilmente giocabile anche che so l'MC guida il fantasma e tutto quanto dunque il mistero dal lato suo l'indovinare che cosa sta succedendo e così l'imprevisto c'è ok dunque l'MC e l'MC guida i fantasmi però lato giocatore si potrebbe anche in un gruppo se in una serata vuoi raccontarti una storia d'horror splatter e cose del genere puoi giocarlo questo gioco semplicemente devi andare di vuoto che cosa farà il personaggio quando devi scelgere puoi raccontartelo un po' così distribuendo l'autorità del personaggio tra gli altri giocatori si 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 può tranquillamente fare anche in questo perde forse dell'intimità del gioco a due che in questo caso forse fatto di persona acquisisce anche un elemento un elemento in più nel senso che me lo vedo effettivamente fatto in una stanza semibuia uno di fronte all'altro sul tavolo col mazzo di carta in mezzo anche potrebbe appunto guadagnarne un po' della fisicità della riservatezza dell'ambiente del silenzio di fondo che si crea insomma da questo punto di vista sì bene dai chiudiamo la registrazione poi se mai rimaniamo a fare le nostre elucubrazioni post giocata e che dire grazie di averci ascoltato se l'avete fatto non so quanto godibile possa essere questo questo gioco dall'esterno abbastanza dall'interno nel senso che ve lo consiglio una bella esperienza per quel poco che costa il gioco e soprattutto per il formato innovativo che devo dire aiuta a capire quanto può essere vasta quanto può essere varia effettivamente ciò che è l'esperienza ciò che è il concetto di gioco di ruolo quindi una bella esperienza dal lato mio che sono contento di aver fatto e che magari sul lungo faciliterò di nuovo molto volentieri tra un po' però adesso ne ho abbastanza di uccidere giovani 23 anni espliratori urbani dobbiamo dargli l'opportunità di ripopolarsi un pochino esattamente aspettiamo giusto quell'annata in modo che i 22 anni diventino 23 anni per ricominciare a mieterli oppure a tesserli anche esatto bene buonanotte a tutti grazie di averci ascoltato e alla prossima volta buonanotte grazie a tutti grazie a tutti